Perché lo fai? Che cosa? Uccidere tante persone. Qualcuno deve farlo. Ma perché uccidere? Che altro potrei fare? Mio padre mi ha mandato in Germania nel 40 per fare il cuoco e il cameriere. Il direttore dell'albergo era nazista. Il cuoco era nazista. Molti camerieri lo erano. E io servivo i nazisti. Li servivo ogni giorno. Una delle ragazze dell'albergo era ebrea. Ma non lo sapevano. Lo teneva segreto. Ma il cuoco lo venne a sapere. E la tradì. La picchiarono a sangue prima che la polizia venisse a prenderla e portarla via. Non deve succedere. Il sabotaggio non serve a niente. L'unica cosa da fare è ucciderli uno per uno. fino all'ultimo.